ma comincia tu io sono la vincitrice e decido io oggi ragazzi non si nominano gli assenti vabbè Malika ti voglio bene lei fa così a novembre la città si spezza in un istante noemi tu gioca i jolly io fai vasco ok e poi ammazzano aspetta ehi ehi mi piace eccolo qua il lioncino lo portiamo a casa quest'anno sai e poi vi chiedete perché vincono le donne ehi